vai vici! a destra occhio ricordo SD scatenati ha un indirizzo Facebook lo trovate senza problemi vengono pubblicate le notizie, le foto, i video magari anche un po' di curiosità adesso invece facciamo un gruppo completo di tutti i bambini e adulti, forza forza a tutti qua ragazzi vi voglio scattarti perché dobbiamo anche fare un gire bravo ti ho preso grande prego grazie sembra che è scatenato più di mio cugino si io sono più amanti io sono il capo degli scatenati lui è presidente lui è presidente degli scatenati lui è Moratti Moratti saluta saluta grande vince te non c'è a te problema tuo vai Adri vai e il ciao fine ciao bravo salutare ciao ciao è caduto vai tec 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 è lui è lui è lui è lui è lui certo che è lui è lui è lui sosta dovete fare la merenda si dai che ridiamo un po' ho bisogno fai fai vai vai e devi fare la merenda vuoi andare o no dai vai su uff 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 new entry trek 8 cheese uff 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 vi uff Vincenzo Vincenzo Pura testa di dedo Tec